Sta arrivando a Palazzo Chigi, sentiamolo. Siamo felici di avere un sistema che permetta ai nostri cittadini, ai nostri elettori di essere parte attiva della politica. Ve l'ho sempre detto, per me è fondamentale questo. Non è un nodo che ci riguarda, credetemi, non ci interessa. No, no, sulla parte finale... Non è un nodo che ci interessa, è il... La questione del vicepremierato eventuale... Sì, per Di Maio. Non è quello che gli interessa, appunto ha detto, ci stiamo confrontando solo e ci confronteremo solo ed unicamente sui programmi. Cioè su questo programma condiviso che dovrebbe nascere appunto grazie alla mediazione di Conte tra PD e Movimento 5 Stelle. Per ora appunto ha escluso che la mediazione, quindi la trattativa, sia in corso sulle poltrone, sul vicepremierato e quindi sulla posizione di Di Maio. Questo è quello che ha detto entrando a questo vero.